Musica 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 Ho chiesto a delle ragazze Se mi potevano fare delle domande di obbligo e verità E una che si chiama Sofì ha detto bevi l'acqua e sale Allora ho preso sale fino ovviamente Un bicchiere Con già c'è l'acqua E brocca E il bicchiello Per mescolare aiuto Vediamo come va l'operazione Che schifo ma perché avete chiesto Questa cosa Ho messo Che schifo Che schifo Ho bevuto un po' di acqua Una maestra A elementare Pensavo che fosse mia madre Ho detto mamma E poi quando si è voltato Non era mia madre Poi un'altra cosa Imbarazzate Mentre andavo a scuola La mattina Ho visto un'amica di un mio compagno Però assomigliava un sacco Che si chiama Alice E ho detto Poi un'altra cosa Una persona mi ha chiesto Non mi ricordo che cosa mi ha chiesto Va bene Questo è il video Per ora è finito Se vi è piaciuto Mettete un pollice Tanti pollici in su E mettete Dei commenti Se sono piaciuti Se sono piaciuti a voi E niente Ci vediamo Al prossimo video Ciao